Una interessante applicazione della tecnologia iFINITY A4 Display è quella sviluppata da Scalable. Questa azienda americana utilizza quattro proiettori in abbinamento ad un software proprietario che configura il segnale inviato da ciascun proiettore in modo tale che possa venire adattato alla superficie curva dello schermo. Alla base di questo sistema una scheda ATI Fire Pro V8800, compatibile con configurazioni iFINITY sino a un massimo di quattro schermi. È ovviamente possibile utilizzare anche una soluzione iFINITY a sei schermi, incrementando la risoluzione e la complessità della configurazione in termini di numero di videoproiettori utilizzati.